La lassità cutanea sopra il ginocchio è un'altra zona dolente per quanto riguarda la chirurgia plastica. Questa lassità cutanea spesso è dovuta al fatto della gravità, ovvero stando in piedi, il quadricipile della gamma, essendo un muscolo importante, un muscolo grosso, stando in piedi, andando avanti, perdendo la tonicità, andando avanti con l'età, tende a scendere con la forza di gravità. Quindi spesso diciamo che questa lassità che si presenta sopra il ginocchio è dovuta a questo scendimento, a questa aptosi proprio muscolo cutanea dovuta alla gravità. Per cui non è facile aggredirla questa, non è facile avere dei grossi miglioramenti. Con una lipo tradizionale spesso si fanno più danni che vantaggi. Infatti è una zona abbastanza off-limit per una lipo tradizionale, cosa che invece tramite questa tecnica con la quale abbiamo fondamentalmente una retrazione della cute, non si va tanto a eliminare uno spessore adiposo, ma a creare una retrazione cutanea, si ha sicuramente un miglioramento. Non sarà mai un miglioramento al 100% in quanto appunto è dovuta a una aptosi, per cui non è corregibile completamente, però si ha sicuramente un buon miglioramento in questa zona.